Allora, se veramente bisogna prendere solo le elinque del tempo per sbloccare le piste del campionino, dei trofei, delle gemme, se servono solo le elinque, le cominciamo adesso. Altrimenti metto off camera, se servono anche gettoni, appunto metto off camera e ho sblocato tre filmati! Attenzione, tre filmati che probabilmente sono quelli... che filmati sono? Beh, comunque, ho detto se veramente servono solo le elinque del tempo per fare i trofei delle gemme, li cominciamo adesso, vediamo adesso a vedere, con il cavo sblocato, e se il video c'è una manda buona, sarò solamente appunto le elinque, come dice, dice velo, lei cominciava adesso, se no, vado a far ssb anche cnk, vado, gettoni, vado, metto off camera, vado a fare via l'elettrone, lì off camera, appunto, e se non vedrete il continuo del video dentro i giorni in cui, vabbè, avete fatto tutte le cose, come si vuole, come si suol dire, non vedrete questo, non vedrete il, magari, non vedrete queste piste, da ogni modo già vedo, già vedo che è questa qui, la coppa della gemma blu, la coppa della gemma blu, perché vedo già adesso, ma la possiamo fare, perché mi servono 4 gettoni cnk blu, allora adesso andiamo a controllare, e i gettoni cnk blu sono i gettoni della terza pista dei mondi, appunto la prima pista è il gettone rosso, la seconda pista di ogni modo c'è la verde e l'ultima blu, allora, quindi a quanto pare devo prendere tutti i gettoni cnk, però a questo punto adesso io direi di farlo, una coppa gemma è composta da una serie di corsi, ognuno delle quali ti assegna dei punti, se al termine della coppa avrai totalizzato il punteggio più alto vincerai una gemma, vabbè, grazie per averci ricordato come funzionano le regole delle coppe delle gemme, e io direi di a cominciare con la coppa della gemma rossa, vabbè, la coppa della gemma blu non credo che facciamo in tempo a farla oggi, ma forse lo facciamo in tempo neanche a fare la coppa della gemma verde, quindi state certi che nella prossima volta la gemma blu avrete sbloccata, perché ce la faccio nella prossima volta a sbloccare, ce la faccio nella prossima volta a sbloccare la gemma blu, ce la faccio, va bene che prenderò forse degli anni, forse prenderò la giornata per provare le attivole, comunque, allora vediamo con chi potremo fare competizione, forse con oxide, no, forse con oxide, come ti ho pronunciato, l'ho pronunciato, come lo pronunciato, come lo pronunciato, nel gioco di casting racing, quindi l'hitorno di oxide, che in verità la pronuncio in inglese è oxide, quindi l'ho pronunciato oxide, per io ho saputo oxide, quindi ne uno ne l'altro oxide, punto. Qui becchiamo di godile nel sedere pieno proprio, sono già in terza posizione, guarda te, mi sa che faremo la competizione con cocco, incredibile, forse il personaggio con cui ho avuto pena ne affrontare in troppi, perché mi è sembrata meno ad alta, perché è lentissima che non sta competizione con lei, speriamo questo velo, perché dico lo, perché per chi non lo sapesse, no, ma devo, aspetta a guardare e devo tenere caperta, vigà, comunque no ve lo sto a vedere cosa per, ma se tu, per, io mi sono stato chiesto, sapate che io e te siamo in squadra quindi ecco stavo dicendo ma se in teoria se i personaggi a volte vedi che ti tirano tipo una bomba verso dietro cioè vedi a bomba che va dietro io non verso l'avanti verso il dietro capito avete capito e che non so che devo fare e quindi sto dicendo ma non è che questa cosa posso fare anch'io mi sembra mi sembra giusto che forse non può fare la sua cpu può fare anche il giocatore una cosa del genere comunque non c'è mai provato magari visto che il tasto alle due mette fotocamera e poi ti fa vedere in faccia il personaggio che usi ti fa vedere dietro forse così ti fa tirare le cose comunque non mi ricordo vero in modo io prima io prima con il secondo e trasferto che fosse la competizione tra questi due no perché allora stavo dicendo il discorso con la prima di quello del dubbio del tirare così dietro comunque il stavo dicendo per chi non sapesse perché non avesse visto le coppe che avevo fatto con il gruppo bandicoot almeno un con un personaggio mi ritrova a fare competizione tutte e tre le piste della coppa c'è stata una volta in cui avevo fatto competizione con cotex appunto che avevo fatto competizione con il class nell'altra con il zem time insomma quelli lì e appunto perché dico che si fa competizione semplicemente per il fatto che in tutte e tre le piste della gemma te li trovi allo spoiler del cart attaccato allo spoiler del cart comunque per chi non si è capito che questo è un spoiler che continuo sempre a nominarlo non ho fatto non ho provato a fare la roba di tirare la bomba per chi non sapesse comunque lo spoiler è quello della macchina è quello rialzato dietro quello che si vede tipo nelle mani quello che si solitamente ci hanno qualche ricordo le macchine da posto perché dovrebbe retare una certa cosa con il vento e anche se comunque ce ne hanno appunto solo le macchine da costo dei bucati in teoria non c'è lì io dico tutto lo spalle perché non voglio dire che ti si vede la macchina perché inserete anche ora di sedere questo punto diciamo grazie a e troppi che vada per dati prestito l'orologio allora sono ritornata prima ho ancora dimenticato di fare la cosa di tirare la bomba nooo basta 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 non facciola capire vediamo se lo conosco quindi allora ragazzi vi dico subito che la volta caricati questi video qui carico immediatamente anche gli altri di che mi tocco perché praticamente non siamo alla fine di anche con il gruppo fortex di modelli tastona praticamente abbiamo finito il gioco solo che per completare al cento per cento proprio il cento per centone di gioco dovremmo fare anche almeno fare almeno una volta le coppe quelle che io chiamo coppe come faccio cadere tutti i punti del cacchio da questa voce dovremmo fare almeno una volta i trofei quelli arcade arcade come li chiamo io che fai arcade come li chiamo io per il semplice fatto che si trovano sui giocatori singoli non sono avventura sono dei trofei sono tipo le gemme le gemme che appunto sono tre piste in una coppa e appunto chi arriva primo vince stavo dicendo per completare al cento per cento proprio modo serie gioco dovremmo almeno fare quelle una volta e quindi ultima pista della giornata sì perché ho visto che per fare una coppa impiego tanto adesso oh dio santo oh grazie dio l'orologio oh che bello che con l'orologio recuperi subito recuperi subito perché l'orologio perché non sapesse gallenta tutti gli altri e te tipo c'hai certo anche lo usco tutte le volte mi dimentico di fare l'esperimento per tirare dietro le cose comunque per chi non lo sapesse loro proprio attivi praticamente tipo chi lo attiva non subisce niente mentre gli altri vengono rallentati al tempo il potere del calentare il tempo signori no è verità sei all'amicizia e ora sai cosa che ti faccia vabbè dai mi oh no e ti sono passato anche nell'esplosione ma è normale che ci abbia svieto tutto questo no no guarda vedovina un po' ti me l'ha tirata testa tua non è neanche un uovo però sembra nuovo comunque vabbè ragazza di alieni non mi dà neanche tempo di sultare le testa e di un attoraggio oxido sei serio che tu mi dà neanche tempo tingo 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 ahahahahah ehm sto dicendo ragazza di costo salvo che ti sta delle dei miei stivali L'ho capito e non ho intendo capire, guarda che so quante battute che hanno i personaggi che io non ho ancora mai sentito probabilmente non ho sentito alcune delle loro battute che non ho mai sentito in tutta la mia vita perché per attivare le battute deve esserci un momento determinato una volta l'ho sentito, sì, una volta l'ho sentito gli audi, però in inglese da qualche parte, però non mi ricordo dove, ero riuscito a trovarli, intanto ho panciato una bomba ero riuscito a trovarli, però in inglese perché in italiano c'erano, a volte avrebbe avuto l'idea di provare a registrare solo le battute, stai come tornato a questa cappola, todo stavo una volta, stavo pensando di ricaricare sul canale gli audi, proprio, no, non funziona, non so come si può utilizzarli ecco, per attenzione con il caso, ci stavo dicendo, non riesco a parlare oggi, no, cioè oggi, qualche giorno, avevo, qualche tempo fa, avevo, mi avuto l'idea di mettere, sul canale, ricaricare sul canale proprio le, tutte le battute che dicono i personaggi, infatti c'è una richiesta che cresce alla fine, cioè, anzi no, sì, anche test perché questo è differente dall'audio originale comunque stavo dicendo, volevo fare questo, per il semplice fatto, che, appunto, non c'erano verso la parte, volevo provare a farlo solamente perché per il fatto è questo perché, c'è questo cosa qui, tu qui su questo, di tua carta, no, sulle opzioni, puoi regolare la musica, puoi provare il fessore, puoi provare anche la voce quindi io potrei azzerare tutto quanto, lasciare solo la voce attiva guarda lì che si lamenta, adesso dovete sentire più forte, intanto c'è Cortex, che, che, si goda la vittoria che, io non so parlare, non mi vengono le parole, stavo dicendo quindi, sulle opzioni, tu puoi mettere solamente la voce le persone che stavo pensando di fare questa cosa qui, solo che dato che sono un bel po', tipo, una volta l'ho ascoltato uno e tipo ne aveva dieci qualcosa, dieci passi di battute, penso che non ce la fare mai a farle tutte, a registrarle tutte quante appunto per il fatto, non si sa quando, che è tutto, non si sa quando un personaggio, non sei mai quando il personaggio sta per parlare però è tutto, questa volta, mi è sempre sembrato che parlassero, i momenti completamente casuali ma non è così solo dei momenti, solamente che io non so memorizzarli, assolutamente tanti quindi ragazzi, visto che praticamente sto, praticamente ho finito il tempo per registrare se il video di questa visita mi piace, noi ci vediamo la prossima, che verrà molto presto perché appunto il video, perché dopo questi video qui vedete, ah, ti vedete il video, e finiremo ho detto storia con il Team Cortex